Il Friuli Domani 25 aprile, festa della liberazione, anche il Friuli, la città di Udine, medaglia d'oro alla resistenza per tutto il Friuli, vogliono celebrare e ricordare questo importante avvenimento. Due grandi formazioni di partigiani, la Brigata Osoppo e la Divisione Garibaldi, lottarono affinché il Friuli fosse liberato da questa dittatura. Ricordare il 25 aprile è importante perché è memoria per rinsaldarci con quelli che sono i principi fondamentali della libertà, della nostra Costituzione e della democrazia. I partigiani hanno dimostrato con il loro impegno di essere vicini al popolo e di lottare per la democrazia del nostro popolo, anche se in terra friulana abbiamo avuto qualcosa di particolare rispetto al resto d'Italia. Perché qui purtroppo in un momento a Porzuz c'è stato un gravissimo fatto tra due formazioni partigiane. Chi credeva nella libertà, chi credeva nelle regole democratiche e chi aveva un modello diverso di democrazia che si ispirava al totalitarismo. Queste cose per fortuna sono state superate, abbiamo vissuto anni di libertà e di democrazia e così dobbiamo continuare a fare, perché questo è il miglior modo per ricordare il 25 aprile, giorno della liberazione.